Salve a tutti ragazzi, qui è Snokey Viparna ed oggi per Republic of Alternative Gaming siamo sul mio desktop. Di conseguenza, come avrete letto dal titolo, oggi è un video speciale, si parla di un premio nei vostri confronti per ringraziarvi di un traguardo importante. Forse alcuni di voi avranno letto sul forum di Steam di Republic of Alternative Gaming che abbiamo raggiunto la grandissima quota di 100 iscritti al forum di Steam. Di conseguenza, io ho pensato di farvi un piccolo dono, visto che questi 100 iscritti sul forum di Steam potrebbero essere tutti trasferiti anche sul canale YouTube di Republic of Alternative Gaming, dove effettivamente l'attività è un po' più frequente, visto che mi concentro principalmente lì. Di che cosa si tratta questo regalo? Beh, per chi di voi avrà già letto sul forum di Steam, si tratta di un'estensione per il browser. Quindi non perdiamoci in ulteriori indugi e vediamo direttamente di che cosa si tratta. Nel mio caso si tratta di Google Chrome, ma l'estensione di cui vi andrò a parlare è disponibile anche per Firefox. Non per Internet Explorer perché, non so per quale motivo, gli utenti di Internet Explorer avrebbero dovuto pagare per scaricare questa estensione. Di conseguenza mi sembrava un'enorme perdita di tempo e la stessa cosa vale per Safari. Quindi per chi fosse un utente Macintosh mi dispiace dirvelo, per chi fosse un utente Apple mi dispiace dirlo, ma questa applicazione non sarà disponibile se non scaricate uno di questi browser, appunto, di cui sopra vi ho citato. Ma non perdiamoci in ulteriori chance, godetevi la bellissima skin del mio Google Chrome e andiamo a vedere subito di che cosa si tratta di questa estensione. Semplicemente, nella barra di Google Chrome, la stessa cosa funziona per Firefox, potete mettere delle estensioni del browser che verranno visualizzate in questa zona, in alto a destra fondamentalmente, o in alto a sinistra, a seconda che voi cambiate il layout, però, diciamo, indicativamente questa è la zona. Che cosa fa questa applicazione alla fine? L'applicazione Republic of Alternative Gaming, che potete scaricare dal link in descrizione, quindi non vi preoccupate, è il vostro premio, ovviamente vi lascio il link dove scaricarla. Consiste semplicemente in un piccolo motore di ricerca che vi permette di rimanere aggiornati e di mandarvi notifiche, esattamente come fosse quella di Google Mail, di Gmail fondamentalmente. Vi arrivano le notifiche, coi simbolini sopra di 1, 2, 3, insomma, in base a quanti video vi state perdendo, quanti video sono stati pubblicati dall'ultima volta in cui, appunto, avete guardato questa estensione. I video pubblicati, ovviamente, sono quelli del canale YouTube di Republic of Alternative Gaming e sono in ordine fondamentalmente di data, quindi dai più recenti a quelli più antichi. Se volessimo andare a vedere, qui c'è una barra di ricerca, di conseguenza questa estensione è un obseudo motore di ricerca, che vi permette di ricercare quello che più vi interessa direttamente in YouTube, quindi senza andare a digitare YouTube, andarvi a cercare YouTube, andare a scrivere il video. Da qui potete digitare quello che vi pare e trovarlo direttamente. Ma la cosa interessante e personalizzabile è che questa applicazione non funziona solo per YouTube, funziona soprattutto per Roag Italia, ovvero per il, diciamo, il canale YouTube di Republic of Alternative Gaming. Di conseguenza, cosa potremo andare a fare? Inserire, per esempio, una parola che vorremmo ricercare, non saprei, magari vi interessa sapere come sta andando la serie di Banished? Perfetto, scriviamo Banished e i video che verranno visualizzati in testa saranno i video di Banished. In particolare saranno ordinati o per numero di visualizzazioni o comunque in ordine generalmente casuale e seguiti, diciamo, quelli con più corrispondenze ci saranno, seguiti da quelli con più corrispondenze, ci saranno dei video che sono sempre prodotti di Republic of Alternative Gaming, come potete vedere anche qui in basso c'è scritto, e che magari hanno attirato molto l'attenzione nell'ultimo periodo, sono stati molto interessanti. Avete seguito, avete commentato, avete messo mi piace, di conseguenza sono video che piacciono a voi e funzionano esattamente, quindi, come un normalissimo motore di ricerca, in cui i primi risultati sono i più correlati, quelli che danno una correlazione vera e propria, e i risultati successivi sono semplicemente dei consigli, diciamo, da parte del motore di ricerca che utilizzate, in questo caso di questo motore di ricerca, e di conseguenza vi farà vedere magari anche altri video di cui non conoscete l'esistenza o perché siete dei nuovi iscritti o perché per un motivo o per l'altro ve li siete lasciati sfuggire. Naturalmente potete cercare qualunque cosa, per esempio c'è la serie di Shogun 2, vi siete persi qualche episodio? Perfetto, digitiamo Shogun 2 e troveremo tutti gli episodi di Shogun 2, più naturalmente, ripeto, dei video che magari hanno bestato interesse. In generale, quello che posso dirvi è, l'applicazione è gratuita, quindi scaricatevela, è un'estensione semplicissima per il browser, non vi occupa niente, vi assicuro, non vi occupa assolutamente niente sull'hard disk, non richiede risorse, è semplicemente lì e vi permette di essere avvisati quando vengono pubblicati nuovi video. Quindi oltre all'avviso, al post che metto sul forum di Steam, avrete anche questa notifica direttamente dal vostro browser, quindi appena la aprirete vi verrà fatto vedere quali sono i nuovi video. tutto qua. Quindi ragazzi, che dirvi? Vi ringrazio tantissimo per questo importante traguardo, vuol dire che forse tutto il lavoro che ci sta dietro qualcosa vale, perché se le cose vi piacciono e comunque se vi iscrivete al gruppo significa semplicemente che seguite e quindi spero che per tutti voi questo sia un regalo, è vero è un pensierino piccolo, però insomma è il gesto quello che conta, mettiamola così, poi ripeto è gratuito, il download è in descrizione, godetevelo e spammatelo come se fosse l'unica cosa che conta nella vostra vita, no certo che no, naturalmente vi dico godetevelo e per il resto se volete condividerlo ben venga insomma, naturalmente il gruppo di Republic of Alternative Gaming è sempre aperto per tutti voi e i vostri amici. Qui da Snow è tutto, di conseguenza votate e commentate, vi ringrazio ancora tantissimo, se il video vi è piaciuto condividetevelo sui vari social network, tanto ce ne sono molti di più di quanti potrei citare, di conseguenza non sto a perdermi in ciance e ci vediamo alla prossima, ciao!